Evento finale per il Consiglio Comunale dei Ragazzi 2015 di Pordenone. Questa mattina, infatti, i rappresentanti del CCR hanno incontrato il sindaco Claudio Pedrotti assieme alla propria giunta per presentare quanto è stato fatto riguardante il tema che i ragazzi hanno sviluppato durante l'anno scolastico. Aree verdi da sognare, inventare, vivere per i nostri giochi, sport e tempo libero. Soddisfazione dell'evento nelle parole del sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Una delle più belle giornate dell'anno come amministrazione perché è la conclusione del Consiglio Comunale dei Ragazzi che alla fine ha il piacere di vedere loro, i ragazzi, i bambini, come vedono qualche aspetto della nostra città. Quest'anno il tema era i cortili all'interno delle scuole e gli spazi per giocare con il tema che giocare è la cosa più importante per loro. Anche nei consigli comunali precedenti la parte ambientale, la raccolta dei rifiuti, i cani che lasciano omaggi in giro per la città. L'attenzione quindi loro è grandissima e ovviamente sono drastici. L'importanza dell'ambiente per loro è sicuramente fondamentale. L'altra cosa è il fatto del giocare. Loro vedono non tanto in negativo i nostri parchi che apprezzano, cioè almeno la metà dei ragazzi che va regolarmente nei nostri parchi, ma vorrebbero che i cortili delle scuole diventassero dei luoghi per loro aperti sempre, per consentirgli poi di trovarsi, perché è un posto che naturalmente porta a loro a trovarsi con gli amici che hanno in classe e a sentirsi bene.